buongiorno da un orzacchiotta buongiorno buongiorno allora io sto qui a casa di gloria stamattina sono in mood felpone da orzacchiotta perché qui a milano fa troppo troppo freddo e praticamente ci stiamo cercando di svegliare ci ha venuto a svegliare la nostra annina ci siamo appena svegliate perché praticamente oggi avremo l'evento nix e quindi ci stiamo praticamente preparando tutto quanto io sono un'orsetta blum 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 vabbè gli orsetti non fanno blum 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 vabbè comunque dettagli ok ci siamo appena finite di preparare perché stiamo andando all'evento io ho fatto questo trucco paraparaparapapapa e gloria si sta ancora struccheggiando annapure già pronta vero sono molto anni 90 e niente ragazzi noi faccio vedere alla luce il colore dei capelli quanto è figo non so se lo vedrete mai cioè ma è troppo bello mi piace tantissimo questo colore e niente quindi stiamo andando a questo evento sono anni 90 oh sì molto molto e niente ci vediamo dopo allora siamo qui in stazione anche devo bloccare praticamente io sono pronta ho già l'outfit qua a milano fa freddissimo e a proposito di outfit voglio farvi vedere come sono vestita e ditemi se vi piace ragazzi I'ma change it, I'ma change your life, life, I'ma change your life, I'ma change your life, I'ma change your life, you used to dealing with basic bitches, basic shit, all the time, I'm a new classic, upbreak your status, from a standby to a freaky slide. You're welcome. Produrement is now! ciao evento finito ragazze mamma mia siamo super 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 stanche però bellissimo però è stato un evento ragazzi da panico c'è ogni volta io dico sempre bellissimo ma è sempre più bello quindi oddio sta arrivando la metro ora sentirete il macello però comunque ragazze l'evento è veramente bellissimo e mo noi stiamo tornando a casa sulle labbra ho stone che è un rossetto tipo grigio che io adoro con le vente allora stiamo in treno stiamo tornando a casa siamo praticamente esausti però come vi dicevo prima siamo veramente molto felici perché l'evento è stato grandioso so che ogni volta dico sempre che l'evento è che non dio c'è ma devo essere onesta c'è nix si supera ogni volta ciao dicevo praticamente nix si supera tipo praticamente ogni volta fa delle cose sempre spettacolari comunque niente noi adesso torniamo a casa e niente ciao buongiorno buongiorno ci siamo sviate già da un po' a dire il vero siamo andati pure già a fare colazione ciao gloria come al solito fa la casalinga esaurita piega panni li dispiega li ripiega sono due giorni che non la cago la casa e quindi niente siamo andate appena adesso a fare colazione si sarà anche robbie quanto è carina bellissima e vabbè niente abbiamo preso un cornettino tutto quanto ma oggi è di vero che facciamo allora oggi andiamo a lavare il cane tor lo portiamo quindi dobbiamo fare un passeggio tirapiedi in questo grandissimo freddo che non fa freddo no 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 dai mi aspettavo facesse più freddo e speriamo che non ci metta tanto la tipo perché di solito ci metto 80 anni speriamo perché io ho intenzione di fare tantissime foto tumblr ehm perché adesso non so se avete visto il mio instagram e a proposito per chi ancora non mi seguisse vi lascio qui sotto il mio nick instagram e voglio fare un po' di foto carine per instagram perché le sto cambiando sto cambiando un po' stile sto rientrando un po' nello stile della vera queen bee no ma ogni volta ho sempre cercato di di tenere un po' come si dice diciamo che hai paura che ti dicano mh quanto te la meni brava perché brava diciamo che è questa la vera realtà dai spiegalo allora praticamente ci sono le tipo le fashion blogger quelle che nascono solo come instagrammer che possono mettersi le loro tipo le loro foto super power poi lo facciamo noi che siamo youtuber minchia quanto te la meni si madonna quanto te la tiri più d'altro abbiamo anche la paura adesso brava carichiamo una foto dove siamo magari magari un po' più eh che vogliamo fare le fighe così ah ma vi sentite fighe no ragazzi l'americano che male c'è se uno si sente bene con se stessa cioè noi comunque cerchiamo di trasmettere questa cosa tra i video di dire ragazze state bene con voi stesse piacetevi perché la cosa è migliore poi se ti piace un po' di più ah però con tutta la menia no basta io adesso mi sono stancata quindi ogni volta che voglio metto una foto solo in primo piano della boccona con rossetto prendo e la metto cioè basta sti cavoli e quindi le nostre patatine le nostre è vero tanto le mie apette le mie apette il cucciolo che fra poco verrà lavato guardatelo salva le ninne le ninne ditemi se non assomiglia a benito mmmm un tor è il tor lui è il cuginetto di benito eh amore di zia quanto è bello quanto è bello oh mi stavo affaccate ragazze tor allora sto portando giù tor che deve fare i bisognini eccolo qua tor saluta a tutte vabbè sta facendo la pipì poverino gloria sta su casa perché qua a milano fa veramente freddo e quindi sono scesa prima a fare i bisogni a tor andiamo amore dai e poi adesso lo portiamo a lavare perché il puzzone deve fare il bagnetto vero tor che devi fare il bagnetto buongiorno so che oggi sembro Elio di Elio e le storie tese con questa sopraccigliona è struccata però ci siamo sviate da poco e stiamo mangiando gloria si sta facendo un panino con avocado e prosciutto crudo io no cotto scusate io invece farò prosciutto crudo e basta perché non mi piace a me l'avocado e niente siamo un po' tristi perché oggi devo andare via devo tornare a casa però vabbè siamo felici perché comunque ci stiamo a vedere sempre di più quindi appuntamento mensile yeeeh e quindi ci manchiamo sempre un po' di meno no? mamma mia ragazzi che brutta che sono struccata no vabbè io a manca mi manco sempre tanto però almeno ci vediamo di più no? e niente quindi noi vi vogliamo salutare vi salutiamo ciao un bacione grosso e spero che il video vi sia piaciuto ciao ciao